Ciao ragazzi! Le fiamme sono state prontamente spente e una decina di rotoballe sono state spostate dal deposito al prato, grazie all'aiuto di un titolare della cascina ronchese subito intervenuto con il trattore dotato di forche e spente dai vigili del fuoco. I cavalli situati nelle stalle adiacenti sono stati spostati immediatamente prima dell'intervento dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. Pare che si sia trattato di un incendio appiccato, al momento non si sa se in modo accidentale o con dolo. Gli accertamenti sono al valio dei carabinieri. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.